Ed ecco che parte la settimana decisiva per Bitcoin. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Decisiva perché? Perché ci troviamo in un livello interessante, andiamolo a vedere subito graficamente, eccolo qua. Questo è un grafico giornaliero, siamo su Pionex, exchange che utilizzo perché mi trovo molto 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 bene ad operare, soprattutto con i trading bot, qua sotto ti lascio il link con una bella promo dei bonus che puoi utilizzare per la creazione appunto di bot e ne faremo uno insieme proprio adesso, però al di là di questo che cosa vediamo sul nostro grafico? Allora vediamo Bitcoin che attualmente è scambiato a 64.630 dollari, quindi ha recuperato dai 59.000 circa, 59.000 60.000 che aveva raggiunto, quindi quest'area qui per intenderci, e sta tornando ad attaccare nuovamente i 66k. Ricordo c'era stato un rigetto dei 66k con un ritorno a livelli più bassi, intorno ai 60k, rigetto che avevamo chiamato e che ci ha portato in tasca un po' di profitto. Poi vediamo un costrutto molto interessante qua. Al di là del range in cui ci stiamo muovendo, che vado a disegnare qui, cioè questo qua, questo è il range all'interno del quale ci stiamo muovendo, vediamo i minimi via via decrescenti e i massimi via via decrescenti, stiamo tornando all'attacco finalmente di questo livello qua chiave, un livello importante che se riusciremo effettivamente a rompere ci porterà probabilmente, ci proietterà ad andare ad aggredire nuovamente, prima i 68k e successivamente chissà andare a colpire il nostro target che ricordo essere gli 80-90k, quindi in quest'area qui. Al netto di questo vediamo che non c'è stato in questo movimento un ritorno sulla parte bassa, quindi di qua effettivamente c'è stata una sorta di inversione che vado a mostrare qui, con dei massimi e dei minimi via via crescenti. Qui c'è stato un appiattimento e si è andato a formare quello che potremmo intendere come un testa a spalla. Eccolo qua, tac, 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 vediamo se proseguirà verso l'alto o se andrà magari a chiudere la spalla per poi muoversi. Quindi andremo a vedere questo costrutto qua in particolare. Detto ciò, sono relativamente positivo su Bitcoin, vorrei anche approfondire un attimo una cosa, perché in tanti mi stanno dicendo ma come mai tutto sta salendo? Infatti se andiamo a guardare il nostro portafoglio globale, a livello azioni, a livello oro, argento, insomma tutto il nostro holding sta andando bene. In questo portafoglio, che andrò poi a condividervi in queste settimane per mostrarvi come l'ho creato e cosa ci ho messo, ci ho messo dentro un portafoglio didattico di Nexo, il portafoglio didattico di Uodler, il portafoglio didattico di Pionex, è là dove eravamo prima poco fa, il portafoglio didattico di Bitpanda e il portafoglio didattico di Trade Republic. Come vediamo il compartimento azionario sta andando bene, portafoglio didattico Bitpanda e Trade Republic se la stanno cavando relativamente bene. Con il Trade Republic devo ancora finirlo, non l'ho ancora finito, devo aggiungere altre operazioni che ho fatto, però tendenzialmente comunque sta andando bene. Lato invece cripto, vediamo che c'è un pochino di assottigliamento, c'è un pochino di calma ancora rispetto a quello che possiamo vedere sugli altri portafogli. Quindi nel complesso il nostro portafoglio didattico se la sta cavando bene, però c'è ancora un po' di rallentamento sulle cripto. Perché c'è un rallentamento sulle cripto? Allora la risposta è molto semplice. Le cripto sono un asset comunque considerato ad alto rischio, perché comunque hanno tendenzialmente una volatilità molto molto ampia. Lascia perdere altcoin, che sono poi ancora peggio, però teniamoci su Bitcoin. In questa fase in cui c'è una grande incertezza macroeconomica, quindi parliamo di guerre, potenziali escalation gravi in ambito appunto guerre, parliamo di una crisi potenzialmente del debito, una recessione il prossimo anno, in questo contesto è difficile che gli investitori vadano a buttare soldi sul mondo cripto. Con investitori che cosa intendo? Intendo gli investitori comuni, intendo gli investitori retail come noi, perché se noi andiamo a guardare attentamente che cosa sta succedendo sugli ETF, e beh sugli ETF il discorso sta cambiando. Quindi vediamo dal 25 settembre ad oggi ci sono stati degli ingressi su BlackRock. Tra l'altro il 27 c'è stato un ingresso più pesante di Fidelity, quindi molto molto interessante, che ha poi scaricato. Qui vediamo tanta speculazione ancora in gioco. Vediamo che tendenzialmente anche qua il 10 ottobre ci sono stati degli scarichi, attualmente l'11 nessun acquisto, il 9 qualche acquisto. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo molto semplicemente un atto di posizionamento secco da parte degli investitori. Quindi perché il mercato, per rispondere alla domanda, è stagnante? Perché tutto va to the moon e qua invece noi ci troviamo a fare sta roba qui che è veramente lunga, 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 lunga e tediosa? Perché semplicemente in queste aree si stanno posizionando e si sono posizionati anche ad aree più basse gli investitori. Quindi tramite TF gli istituzionali si sono posizionati. I retail non entrano spot. Qua parliamo di un posizionamento spot. I retail non stanno entrando spot con cattiveria. Stanno semplicemente speculando sul mercato. E quindi vediamo qui, 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 qui e poi di nuovo in queste aree, in queste aree, in tutte queste aree qua, stiamo vedendo che cosa? Delle prese di liquidità. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'istituzionale si è posizionato in quest'area. Spot in accumulo. Lascia fare trading ai poveri mentecatti che va a liquidare perché ogni tanto cosa fa? Boom, dampa. Arriva a livelli interessanti dove le leve sono alte. Dove qua le persone pensano che si vada to the moon. Qua pensano che si torna in to the moon. To the moon, to the moon, to the moon, to the moon. To the moon. E' in queste fasi che loro scaricano. Scaricano, il prezzo crolla, fanno pulizia, prendono liquidità e si riposizionano accumulando maggiormente. Quindi si vanno a posizionare sempre meglio. E intanto i poveracci perdono soldi. Quindi finché non entra liquidità nuova, ma liquidità spot nuova dai retail, è difficile andare a vedere quel movimento che vogliamo vedere. Quindi tutto sta nella nuova liquidità in ingresso. Ora, questa parte qui di grafico ci sta dando da sperare. Quindi qua potrebbe effettivamente segnare questo pump, questa aggressione nuovamente, si spera, di questo livello qui. Se così fosse, potrebbe dare effettivamente il propellente per andare poi a spingere. Ricordiamoci che qua abbiamo un'accumulazione che dura da tanti mesi. Quindi potrebbe essere veramente una situazione interessante. Siamo a ottobre, dobbiamo vedere che cosa succede. Qui anch'io, come vedi, ho fatto delle operazioni, ho fatto dei sell in queste aree e sono andato poi a ricomprare in quest'area. Poi ho lasciato questo qui, una parte di questi sell, sono andato a ricomprarla qui. Ho aspettato ulteriormente, sono andato a riposizionarmi in queste aree. Poi ho dampato qualcosina di nuovo in queste aree e ho riaccumulato in queste aree. Quindi anch'io mi sto muovendo in realtà in ottica speculativa, andando ad accumulare in queste aree qua. Questa è la situazione di mercato. Molto semplicemente un'analisi velocissima per capire dove stiamo andando. Perché dico che questa potrebbe essere una settimana decisiva? Perché siamo a ottobre? Siamo ormai a ottobre inoltrato. Quindi questa è la settimana centrale di ottobre. Ancora il mercato non ha fatto chissà che cosa, se non comunque difendersi bene, se non altro, senza tornare a questi livelli. Quindi ha combattuto con le unghie e con i denti in quest'area, il che è perfetto. Cioè di questo non si può dire assolutamente nulla. Avere lo slancio adesso per tornare su ad aggredire questi livelli e potenzialmente andare a colpire sti benedetti 80-90k, questo secondo me è il momento giusto per farlo. Se non lo fa, se non lo si fa, il problema è che ci troveremo nuovamente a romperci le palle, a lateralizzare, andare un po' giù, un po' su e quindi la tiriamo per le lunghe. Più la tiriamo per le lunghe, più è improbabile che andiamo a spaccare verso l'alto. Ma nel caso in cui spaccassimo verso l'alto sarebbe una rottura realmente potente. Ricordo, ingresso di retail qua, spot, significa partire con la fase parabolica. Quindi questa è la cosa importante da sottolineare. Nice! Ora, che cosa sto facendo io? Semplicemente mi sto posizionando, ti vado a mostrare anche qua, trading bot orders, qui, l'ultimo bot che ho avviato, questo qua, tre giorni fa, l'ho avviato come puoi vedere qui, vediamo se sui parametri si vede lo storico. Eccolo qua, l'avevo creato con un target a 64k, quindi avevo il take profit a 64k, lo stop loss l'avevo messo a 50k, se non ricordo male, il range operativo, questo è un futures bot, ricordo io utilizzo i futures bot come se fossero posizioni long o short, esattamente come se aprissi un long o uno short però con una griglia semplicemente. Che cosa ho fatto? Ho aperto la mia griglia, 50k sotto, anzi 48k in realtà sotto e 64 sopra, stop loss 50k, leggermente più alto perché avevo la liquidazione a 48,5 e 64k invece il take profit. 50 griglie, quindi il prezzo man mano che si muoveva mi faceva chiaramente profitto. Come è andato? È andato bene, se io vado nell'overview vediamo che è passato da quando l'ho avviato al picco e è arrivato circa ad un 6%, quindi più o meno in quest'area qui, nel giro di un paio di giorni. A questo punto io potevo, uno, chiuderlo, leggermente in anticipo rispetto al take profit, però a me non piace chiudere prima il take profit, il mio take profit era 64k e oggi avrebbe colpito 64k, quindi cosa ho fatto? Ho cambiato il range della griglia, l'ho scalata un po' più in alto per andare a coprire un movimento più ampio. In questo caso vedi che nel momento in cui scali la griglia è come se chiudesse e riaprirsi il bot, infatti il prezzo è sceso e crollato e qui poi è ripartito, è stato laterale in quest'area qua, adesso è tornato intorno ad un 3%. Gli ho dato un setting nuovo, attualmente i parametri sono i 50 e i 66k, quindi ho scalato di un po' di punti in alto la griglia, sempre 50 griglie, sempre leva 10 e attualmente siamo, vediamo un po' come è piazzato, dov'è? Qua, siamo attualmente a un 2,58%, quindi adesso la tengo così e vedo un attimo come va. Parallelamente vorrei aprire un altro bot, quindi andremo ad aprire adesso una griglia, volevo lanciare una posizione rapida, ti lascio questa posizione qua sotto in copy trading, tutte queste posizioni che apro le apro in copy trading, quindi chi vuole può seguirle, chiaramente comprendendo che è importante farlo con non tutto il capitale, ma con una porzione di capitale, come vedi ho qua aperto con 35 dollari, perché io uso i trading bot come se stessi facendo trading né più né meno. Ora se io vado a cliccare futures bot, vado a crearne uno, te lo lascio in copia, ti lascio il link qua sotto, non lo faccio partire immediatamente, volevo darmi come settaggio, così ti faccio vedere anche come faccio, un lower a 58k, quindi do il livello più basso, do il livello più alto, lo metterei a 68k, do il numero di griglie, ne voglio mettere una cinquantina, do poi anche la leva, voglio fare una leva a 9, investimento sono 41, allora da 58k, eccolo qua. Ho creato adesso la mia griglia, che cosa faccio? Metterò il mio stop loss qui, il mio take profit qui, e poi vedo come ci arriviamo ovviamente. In questo caso creo la mia posizione, lui oscilla, prima di arrivare magari al take profit, appunto oscilla un po', quindi mi accumula, vende opera, ed è un pochino per me più efficiente rispetto che aprire uno short o un long normalmente. Quindi questo è il mio target attualmente su bitcoin, quindi vado a costruirmi la mia griglia semplicemente. Vado a piazzare un investimento, in questo caso di 36, devo mettere dollari, 0.03, vado a piazzarlo, allora aritmetico, il trigger price, mettiamoli un'esecuzione non immediata, mettiamolo in attivazione a 64.400, così quando scende si attiva e parte. Così l'ho creato, griglia aritmetica, abbiamo detto un 36.03, facciamo un check veloce, qui la liquidazione ce l'abbiamo della posizione in questo caso a 55k, direi che è tutto ben settato e possiamo anche lanciarlo, ovviamente non partirà subito perché siamo con un trigger price più alto. Ok, quindi ora la nostra griglia è lì, latente, pronta a partire. Questa è la situazione attuale, quindi abbiamo anche piazzato un ordine, così ti ho dato già un target che mi aspetto io di raggiungere in questi giorni, se non già oggi, i 68k, potremmo avere comunque una repulsione in quest'area, quindi l'ennesima trappola e vederci poi tornare nuovamente di nuovo a range 60k, quindi fare un po' di movimenti in queste aree qua, quindi tra i 62 e i 63. Noi comunque ci siamo tenuti un range un po' più basso per operare, quindi più o meno in quest'area qui e vediamo un po' come andrà. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, ricorda che ti lascio qua sotto il link di registrazione a Pionex, è una registrazione gratuita, è un exchange, un exchange molto forte perché ha tantissime soluzioni per operare, per fare trading in modo automatizzato, sia spot che futures, in più avrai un bonus chiaramente se userai il mio link che trovi qua sotto, un trading bonus che potrai utilizzare proprio per seguire anche in copia questi bot che vado a lanciare. Ti ringrazio per essere stato qui con me, mi raccomando ricordati di iscriverti al canale, dovrebbe comparire un bottoncino qua, cliccalo e ti puoi iscrivere al canale. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.